ne manca un pezzo no l'avete riconosciuta questa è la famosa sfogliatella napoletana è una delle cose più belle che l'uomo abbia mai inventato ragazzi come la sfogliatella buona 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 me l'ha appena portata il mio amico alex ed è calda fa sentire è calda ancora calda è veramente una cosa buonissima dentro come sono gli ingredienti alex ricotta ricotta canditi vaniglia si è un ingrediente segreto la cannella l'hai detto cannella cannella c'è pure la cannella ma è una cosa squisita adesso non la posso mangiare dopo dopo come scendo dal palco mette magno fammi vedere com'è come alla sfogliatella buona buona come come alla sfogliatella buona buona te magno dopo mi raccomando eh ciao